Bentornati affezionati ascoltatori di Radio Puginion Air, oggi dopo tanto aver parlato di politica, notizie tra cui apparizioni di madonna e sparizioni di veggenti, ci siamo finalmente, parliamo anche di musica. Finalmente perché ultimamente davvero sono poche le canzoni dei grandi cantanti, cantautori, band che stanno uscendo, ma ogni tanto c'è qualche novità ed ecco parliamo ora dell'universo musicale degli articolo 31. Il leggendario duo composto da J-Ax e DJ Jed ha annunciato con grande fervore il loro nuovo disco intitolato Proto Maranza, che promette di scuotere le fondamenta della scena musicale italiana. Dopo il memorabile ritorno sul palco del Festival di Sanremo 2023 con il brano Un bel viaggio, è finalmente giunto il momento di assaporare nuova musica firmata da questi iconici artisti. Proto Maranza segna il primo album di inediti degli articolo 31 dopo ben 21 anni dall'uscita di L'Italiano Medio e altrettanti anni dal leggendario album La Riconquista del Forum. Questo nuovo lavoro, prodotto per Columbia Records, Sony Music Italy, rappresenta un traguardo significativo nella carriera degli articolo 31, arrivando a 31 anni di distanza dal loro primo album, Strade di Città. Un percorso che ha visto il duo attraversare tour sold out con oltre 100.000 spettatori e lanciare singoli di successo come Classico e Una Cosa Bene, in collaborazione con Coma Cose. Il disco Proto Maranza è già disponibile in pre-order nei formati CD, CD autografato e doppio vinile fluo più nero, quest'ultimo ideale per gli amanti dello scratching autografato e numerato. Ma le novità non finiscono qui. Il pre-order dell'album offrirà l'esclusiva possibilità di acquistare in anteprima i biglietti per il concerto live che si terrà al Mediolanum Forum di Assago, Milano, il 9 ottobre 2024. Segnatevi questa data. Questa iniziativa ricorda quella lanciata nel lontano 2005 da Gianluca Grignani con l'album Il re del niente dove l'acquisto del CD garantiva l'accesso al concerto live. Ma in questo caso coloro che preordineranno Proto Maranza avranno accesso a un pre-sale esclusivo per l'acquisto dei biglietti del concerto a Milano il 4 aprile 2024 dalle 14 alle 14 del 5 aprile. Ogni acquirente riceverà un codice esclusivo tramite email insieme ad un link privato per accedere alla pre-sale del concerto. È importante notare che i biglietti in pre-sale sono limitati e ogni codice consente l'acquisto di massimo due biglietti. Dunque a partire dalle 14 del 5 aprile i biglietti saranno disponibili per la vendita generale sul sito www.vivoconcerti.com. Insomma è un momento emozionante per i fan degli articolo 31 e per gli amanti della musica italiana. Tenetevi pronti per immergervi in un viaggio musicale indimenticabile con Proto Maranza e per garantirvi un posto speciale al loro attesissimo concerto live. Restate sintonizzati su Radio Pugginio NER per ulteriori aggiornamenti su questo evento straordinario e per continuare a scoprire le ultime novità insieme dal mondo della musica e dell'intrattenimento. Alla prossimo episodio del nostro podcast Radio Pugginio NER.